Ma chi si fa? Ma chi si fa? Sì Ma te la vedo lì C'è? E' perchè si occupa di queste cose qui Ehm 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 Bello Bello Zaki Ma mi stai riprendendo? No Stai riprendendo me Dai parlami Io ti sto ascoltando Perchè così metto questo video Su Youtube perchè sto facendo un video al giorno Metto questo video No 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 Beh censuro tutti i nomi va bene Tanto lo guardano trenta persone Ehm Quando diventerai una regista franamora Lo guarderanno tutto e Ehm Censuro tutto Ci metto sopra un verso tipo di papera Vabbè comunque c'è quest'altro Censuro anche lei ha fatto Lei ha fatto Sesso E poi ha fatto la scuola di Cane Sì Va bene Oltretutto lei era una che aveva fatto il Wow è la storia della mia vita Aveva fatto anche il corso di telemark con me di sci Avevo andato a ridere Non c'entra niente questo No comunque posso recuperare anche il nome di Ehm Anche il contatto di Patrick Che battuta infelice Che battuta infelice Sì Ehm O dopo mi dici mi ha voglia Sì Va bene Va bene Mi devo attivare Sì Activate E questa cosa parla del Un po' di cine E oggi Artistica Io farei la vera cacca Dai E tu Però cercai Parla con altre delle altre cose E poi Che succede Ma non c'è tempo ormai Quest'anno è perso No Non è no Ma chi è che dovrei parlare secondo te? Con te stessa Sì ma Chi è che c'è? Cioè Chi conosco E' un punto Che esplodi anche delle altre cose Ma non puoi chiederti se secondo lei la parte mia se vuoi Ma in vacanza Ok Quando torno perché non lo sapevo Se secondo lei può essere chiuso di conoscerti E se lei conosce qualcuno magari Fai testo attitudinali Sì Farò qualche cosa di orientamento Sì 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 Sì